Mister, naturalmente la partita con la Puteolana assume un'importanza ancora maggiore dopo una sconfitta un po' inaspettata, se vogliamo, dopo quella di Biton. Sì, è stata una sconfitta inaspettata quella di mercoledì, soprattutto quando poi vai a rivedere un attimino le immagini dove abbiamo creato tantissime occasioni da gol. Tornare a casa con la sconfitta fa rabbia, fa molto rabbia. I ragazzi abbiamo analizzato la partita e abbiamo creato tantissime occasioni da gol. I ragazzi devono stare tranquilli e sereni perché questo è il cammino giusto. Dobbiamo un attimino essere un po' più concreti dal punto di vista realizzativo, questo sì, però c'è molta fiducia per il proseguire del campionato. Ecco, lo introduceva già lei, cosa è mancato a suo parere contro il Bitonto? Innanzitutto c'è da fare i complimenti al portiere del Bitonto perché ha fatto 3-4 interventi veramente miracolosi. C'è poco da riproverare se vado a vedere con le occasioni create. Abbiamo concluso però c'è stato, ripeto, un grande portiere, abbiamo trovato un grande portiere di fronte. Naturalmente la Putelana è un avversario da non sottovalutare. La classifica della Putelana è bugiarda, a parte che c'è ancora due palite da recuperare, andremo a affrontare sicuramente una squadra che avrà voglia di fare punti. Però noi qui in casa dobbiamo fare, ecco, deve essere il nostro fortino. Per domani mi aspetto una grande reazione da parte dei ragazzi perché è quello che tutti quanti ci aspettiamo. Grazie. Grazie.